Allora è un grande onore poterla intervistare, innanzitutto una sua impressione su questa quinta edizione del Salone dell'Auto Parco Valentino. Ma guarda io ho vissuto a Torino per tre anni, dal 96 al 99, per cui per me è un ritorno molto bello perché a quell'epoca lavoravo in Fiat Auto e ci tenevo molto con la Bugatti a venire al Parco del Valentino anche perché stiamo festeggiando il nostro 110 anniversario, per cui Ettore Bugatti era italiano, è diventato francese in Francia, siamo un marchio francese ma le radici sono profonde e ci tengo molto. Questa è la Chiron, la Son 10 Anniversaire, è la macchina che abbiamo dedicato al 110 anniversario, la Divo, l'abbiamo in esposizione all'interno del parco e sì questa macchina per me è molto importante perché è un po' il connubio tra una super sportiva e una macchina molto confortevole, per cui sì saremo anche i primi dopo le Formula 1 a sfilare oggi. Chiron, già il nome elettrizza, ce la vuole raccontare un po'? Beh sì, è un punto carnide della macchina, il motore, un 8000 di cilindrata, ha 16 cilindri, 1500 cavalli, l'abbiamo limitata a 420 km all'ora perché può andare anche più veloce, è fatta in carbonio per cui il rapporto peso-potenza è una cosa molto importante per questa macchina. E quegli interni? Interni, anche qui carbonio, questa macchina qua è dedicata ai 110 anni per cui abbiamo preso dei riferimenti dalla Francia, ci sono delle bandiere, l'esterno è in carbonio blu note matte per cui opaco, l'interno anche qui abbiamo il tricolore e il logo dell'anniversario dei 110 anni con il tricolore e il blu Francia che è paragonabile al rosso per le vetture da corsa italiane, il blu era per le macchine francesi. C'è stato un periodo di stasi per Bugatti nella storia di questa importantissima casa? Sì, Ettore Bugatti ha fondato la casa 110 anni fa nel 1909, ha avuto i tempi migliori negli anni 20 e 30, dopo la seconda guerra mondiale l'hanno chiuso, dopo la sua morte non c'è stato un grande seguito, c'è stato un intermezzo negli anni 80 e 90 qui in Italia a Campogagliano dove è nata anche la EB110, una macchina secondo noi importante della storia e poi dal 98 il marchio Bugatti all'interno del gruppo Volkswagen e siamo tornati all'origine in Francia a Molzheim che è una cittadina vicino a Strasburgo. Come guarda la nuova tecnologia Bugatti, l'elettrico? Io credo che per le supersportive non è ancora il momento di avere una macchina solamente elettrica, non credo che questo sia il momento giusto per farlo perché la tecnologia quando la si adotta, almeno quando noi la prenderemo sotto osservazione, deve essere la miglior possibile macchina sul mercato e oggi ancora non vedo qualcosa di meglio del nostro motore per una supersportiva come la Bugatti. Se mai dovessimo fare un secondo modello più adatto all'uso quotidiano, allora un elettrico è delle nostre corde. Grazie.